Allora, sei anni fa, sei o sette, sono quasi sette anni oramai, avevamo una struttura in campagna molto bella, immersa nel verde, con la piscina, un casale del 1800 che avevamo ristrutturato nel tempo, però non potevamo viverci, insomma, nel senso che vivevamo a Roma, avevamo altri interessi e a quel punto decidemmo di utilizzare questa bella struttura per farne un B&B, un bed and breakfast. Aprimmo, insomma, lo dotammo di tutti gli strumenti aggiunti da fare una voltura da abitazione a struttura ricettiva e aprimmo. Aprimmo, però, insomma, abbiamo visto all'inizio, all'inizio, insomma, per parecchio tempo che in qualche modo non eravamo facilmente raggiungibili, anche se, insomma, usavamo i social, altri strumenti per poter pubblicizzare la struttura. A quel punto, però, ci fu consigliato di scegliere un esperto della comunicazione che potesse rendere, attraverso i suoi strumenti, appetibile la nostra struttura. Tramite delle conoscenze ci consigliarono il dottor Sinibaldi, Antonio, e lo contattammo, ci siamo messi in contatto e Antonio, lo chiamo Antonio, venne a supervisionare insieme alla moglie e Giovanna la struttura e non solo supervisionò la struttura, fece anche un servizio fotografico veramente di valore. E non solo, ci consigliò anche tanti piccoli accorgimenti, ci ha aiutato anche nella scelta di tanti oggetti oppure di indicazioni fatte in maniera tale che la nostra struttura poteva essere ancora più attrattiva. Realizzò questo sito, realizzò un sito internet e in più i social, anche la pagina dedicata sui social, su Facebook. Da lì, insomma, piano piano partimmo con questo sito, attraverso il sito, il sito permette le prenotazioni, il sito permette i pagamenti online, il sito è in più lingue, accessibile anche agli stranieri e di conseguenza piano piano abbiamo visto che in effetti era un qualcosa di veramente molto utile, tra l'altro realizzato anche molto bene. All'inizio non mi ero resa conto fino in fondo di quanto fosse stato studiato nei particolari, poi man mano che ho approcciato il sistema ho capito quanti particolari aveva curato il dottor Sinibaldi. Poi un'ultima cosa, alla consegna del sito il dottor Sinibaldi non è affatto sparito, anzi tutte le volte che noi abbiamo bisogno di qualsiasi cosa lui è in grado di risolvere ogni tipo di problema anche a distanza e lo fa in maniera molto veloce. Io, noi lo ringraziamo tanto, manterremo con lui anche nel futuro il nostro rapporto con lui professionale e anche amichevole perché è una persona tra l'altro molto empatica, socievole che facilita anche il rapporto tra cliente e diciamo il professionista che è lui. Antonio ti salutiamo e spero che ci rivedremo presto.